Ciao raga, bentrovati sul mio canale youtube, oggi come ogni mercoledì torna questo o quello, la rubrica dove cerco di risolvere i dubbi, le domande, le perplessità che mi avete lasciato sotto lo scorso episodio Incredibile che ho tutti questi food bird e il numero di domande è impennato, raga praticamente ho lasciato il triplo, quindi chi prima è arrivato meglio alloggerà anche questa volta Quindi vi ricordo di lasciare subito un bel like e un commento se volete avere una risposta nel prossimo video e nulla mettetevi comodi perché andiamo subito a rispondere Ha un po' di domande e la prima domanda ce la fa Michele Griscuolo, Bruno TotGS, Sanchez Foodbird è un ottimo centrocampo? Assolutamente sì Michele Io utilizzo lo stesso centrocampo solo che Bruno è la versione pot ma va benissimo anche Bruno nella versione TotGS Daniele Zeni, un centrocampo nel 4-3-1-2 con Persic, Buschezze e Pereira e come C.O.C. Bernardeschi ci può stare, ti dico assolutamente sì Soprattutto lato C.D.C. e due mezze ali, un po' almeno il Bernardeschi C.O.C. non è proprio in cima alle mie preferenze però magari ce l'è non scambiabile Magari serve un C.O.C. in serie A, quindi lo potresti anche provare, Ettore ci spara un bel grande, grande Ettore Carmine, Bruno e Renato ci sta, Bruno ora un pochino autodatato però magari per tamponare all'inizio Prima di poterlo sostituire magari con una versione speciale ci può stare Giuseppe nota la coppola che ormai ci ha compagni in tutti i video Ado, Efo, Llorente, Sif, non scambiabile o Paolinho, Foot, Birdie? Bah, se hai Llorente, Sif, non scambiabile onestamente è utile di andare su Llorente che è un po' più agile e maggiormente linkabile Quindi senza andarti a rompere la testa poi per doverlo inserire va di Llorente L'Axial, ciao Ribe, mi consigli Gunter a 7 e Bender a 10? Oda DC, Bender a 10 e Dalo a 10 e Gunter lo usi TS a 7? Metti Gunter e Bender, entrambi i difensori centrali Come avrai visto ieri nel video dei migliori difensori centrali, l'ho inserito Gunter tra i migliori Fa un sacco di interventi automatici, mi piace tanto Luigi Russo, un esterno sinistro di Premier che può giocare punta per un 4-2-3-1 ce ne sono svariati Abbiamo Rashford nella versione 88, abbiamo Manet nella sua versione candidato Toti, nella sua versione If Abbiamo un Maxime Nif, quindi fondamentalmente le carte sono queste Antonio Di Leonardo, va bene la mia squadra con Ariola Traipali, Mendy, Varanu CL, Teo Sambia, Vidal Renato Sanchez Con Neymar Atal, Cliver Moments e Mbappé Potm Veramente una bella squadra, ti direi di andare a togliere quel Cliver Moments appena fai delle, insomma, dei crediti In maniera tale che vai a mettere qualcosa di un po' più goloso Lorenzo Calanchi, volevi sbloccare Renato, giovedì 22 aprile, ma c'è l'appuntamento Pagandolo circa 200k o 100k Tieni l'Europa, vai con il footbird che è più forte Tra questi tre, Alessio, Ronaldo Toti, Mbappé Toti, Pelé Io ti piazzo Mbappé Toti come primo perché si sente tantissimo la differenza con la sua versione 92 Potm Ronaldo Toti al secondo posto perché è fortissimo però già il 95 va bene e poi Pelé Prime Ciao Giuseppe, affiancare a Bender TD messo DC Chi ci vado a mettere? Ma che se ne ha zanzar? Ma che se ne ha zanzar? Stanno arrivando i zanzar Colpite affondata Da affiancare a Bender TD messo DC Chi è meglio? Belli o Senjust? Ma da come ho detto anche in quella che è stata l'analisi che c'è stata in settimana Andrei più su Senjust, Giuseppe Tommaso Amico Bellaribe, meglio sbloccarsi Renato e vendere Cantè e fare centrocampo Bruno Renato O fare Belli senza spendere niente? Vai subito di Renato perché Gomez base, secondo me, già tampona bene un Belli Cataldo Leo Llorente Ruldreger a 10 o Kondo B a 7 e 8 vai di Llorente che è molto meglio Filippo Cavani Hai una domanda da porti, Ribe Attualmente giochi per dare intesa con un 4-3-3 con in porta Donnarumma, difensori centrali Puroil e Gosens Tersini, Bender e Dalot Centrocampisti Ococia sul lato di Bender Tonali e Ronaldo versione 87 A 7 d'intesa Come CC perché non hai crediti attualmente Alla destra Beckham Attacco Caputo e alla sinistra A 7 d'intesa Lautaro 87 Allora Mi sa che qui hanno già risposto Al buon Filippo perché a me mi si è troncata la domanda Non so per quale motivo Comunque ti posso dire che sicuramente Beckham da esterno non lo andrei a utilizzare Lo potresti provare da CC come ti ha consigliato Cristian E Tonali è un buon giocatore però Renato è molto superiore Quindi una mediana fatta da Renato più Beckham la potresti provare Perché purtroppo mi sa che è l'unico modo per poter inserire Renato Per quanto riguarda Francesco Caruso chiede Renato Sanchez dove va usato CC o CDC fondamentalmente Thomas invece ci chiede Secondo te è sensato fare Renato footbird gratis e metterlo al posto di quell'Europa League E poi è meglio Vitallo o Renato Tutta la vita fare Renato footbird al posto dell'Europa E per me è meglio Renato visto che è più completo Magari Vital difende un pelo meglio ma attacca molto peggio Edo chiede Cosa ne pensi di Bayhead Redliner? Bayhead è un ottimo attaccante Attaccante completo Magari non è il Bayhead dell'anno scorso Visto che quest'anno le 5 skills sono importanti Ma è sempre il solito folletto dell'attacco Ivan Rossi Ciao Ribe Mi consigli due centrocampisti tra Gullit Prime Vera Baby Bruno Potmer Renato 87 Tutti non scambiabili Porca miseria se ce li hai tutti non scambiabili Secondo me vai di Gullit e Renatino Ivan Filippo altra domanda Come migliorare la parte di essere la difesa Chi potrei andare a mettere al posto di Gosens e Dalotto? Guarda io Dalotto lo lascerei onestamente Mentre al posto di Gosens puoi inserire il buon Tomori Filippo Ballarini Avresti due domande Una alla destra da budget di 500k La spinacina è un fadello al forno La spinacina al forno Visto che sono a dieta Mentre per quanto riguarda una alla destra da budget di 500k Avresti tu indicarmi la squadra In maniera tale da poter capire le intese Fondamentalmente lì C'è un po' di carenza Ultimamente è uscita qualche carta interessante A memoria Così mi ricordo che c'è Saka Però costa tantino Ti ripeto Se avrei dovuto sapere il campionato È uscito anche quel Perisic Quindi poi dipende un pochino da te Marco Ciao complimenti per il format Tiago e Bruno Chi mette i cdc e chi cc nel 4-2-3-1 All'altro cdc è Renato Ma tra Tiago e Bruno Mettere Tiago a fianco a Renato E Bruno dai cc Gunther da dc utilizzabile Samuele come avrai visto nel video di ieri Assolutamente sì Tra Bender e St.Just direi Bender Meglio Messi toti o Ronaldo Alessandro Ti dico Ronaldo Visto che quest'anno è molto più meta rispetto a Messi Andrea ci dice Sono quello dell'altra volta Ingame Zambrotta TS Pensavo di comprare Mandy Bird e giocarlo a cc a fianco a Tiago Guarda Mandy onestamente da cc non mi fa propriamente impazzire Va bene adattare i giocatori Però cerchiamo di stare nei limiti Quindi un terzino cerchiamo di spostarlo magari da dc Ma non lo facciamo viaggiare troppo per il campo Zambrotta è molto forte Però ti ripeto Mandy gli farei fare terzino massimo dc Marco chiede Mane Fritz e Rashford Chi mette a TT e chi esterno E come ti è se Yurio Reguillon Allora tra Mane e Rashford metterei Mane da esterno e Rashford da punta Per sfruttare la quinta skill Mentre per quanto riguarda come terzino tra Yurio e Reguillon Ti direi andare di Reguillon Vincenzo Fiorentino Cosa cambieresti nella mia squadra? Pope If Mendy Varambelli Zanetti Mataus e Sanchez Paiè San e Ronaldo Di Bale Sbc Guarda a me non fa impazzire quel di Balignovic Onestamente Se proprio te la devo Te la devo dire tutta Così come non mi fa impazzire neanche quel Paiè Ok? Che però probabilmente D'identese a Sanchez Quindi magari potresti pensare di prendere magari un Bappé Se riesci a linkarlo E al posto di quel Di quel di Bala lì Potresti fare Insomma una Una scelta Andare magari su un Football Day di Serie A O magari un Muriel 86 Che secondo me con il 4 di Piede Debole Rendono meglio di Di Bala Che ne ha 3 Meglio Neymar o Rashford da punta Neymar Gabriele Perché è più agile Ale di Fiore Meglio El Sharawio Dalglish Guarda Ale Qui tocchi un tasto dolente Io ti dico Dalglish E mio figlio Un giocatore che l'anno scorso Mi ha portato agli eventi internazionali Quindi ti dico Dalglish Perché lo amo troppo Valerio benvenuti Bella ribe Come lo vedi un attacco a 2 Con Palacio e Messi Insieme a Escia sulla fascia E Gervinio a destra Bell'attacco Due pulci Diciamo più alla FIFA 20 Come Come stile di attacco Però possono Possono rendere anche loro insieme Ciao Marco Figurati Il commento ci sta Come potrei migliorare la squadra Annoyer Dest Zambrotta Boteng E Cole Vidale Bruno Garrincia Nemar Pele Butraghenio Volei prendere James Al posto di Boteng E risparmiare per Davis Guarda Se ti posso dare un consiglio Ti direi di risparmiare per Davis Perché ti dà veramente un impulso Non male a questa squadra qui Andrei anche a togliere Butraghenio Prima o poi Perché diciamo che Col 3 di skill Si risente parecchio Non è propriamente il suo gioco Ciao Anunzio Showsif James Zambrotta Moments E Pereira Può essere una difesa OP Tanta tanta roba Sì Mi piace tanto Questa difesa qua Andrea Desposito Ciao Ribe Meglio Canteoro Renato Footbird E io Renato E Jones Io ti dico tutta la vita Renato E il buon Jones Roberto Utopila Tomorio Walker If O Zidane Baby Non scambiabile Dici che a questo punto Il gioco andrebbe cambiato Solo che Bruno Pot Mi è scaduto No per quanto riguarda Zidane Non scambiabile Tienilo E' ancora un giocatore validissimo Mentre per quanto riguarda Invece Tomorio Walker Io preferisco Walker Perché è un po' più reattivo Nei movimenti Lautaro Cristiano Andrei su Cristiano Ciao Gianluca Attitino 4-4-2 Tra Neymar Bappé Hernandez E Atal Vai di Neymar E Atal E gli altri due Metti li esterni Gianlu Jacopo Ligorio Nel rombo Meglio Raikard Prime Sien Mid Petit Mid O Gattuso Econ Moments Qua se servono Tre giocatori Vai a mettere Gattuso Moments Da Cdc E Sien E Petit Da Cc Se invece te ne serve Solo uno Vai di Gattuso Ciao Antonio Barnes or Rashford Da punta Assolutamente Rashford Visto che c'è il 5 skill Giovanni Donnarumma Grande Riberone Ho trovato Eusebio Mid Ma non riesco proprio a usarlo Come vorrei Ho affiancato Neymar Guarda Eusebio È fortissimo Ok È il solito Eusebio Non è l'Eusebio dell'anno scorso Quindi fondamentalmente Il ruolo ideale È un attacco a due Cercando di utilizzarlo All'interno dell'area di rigore Girarti su se stesso E calciare Visto che c'ha 5 di piede debole Però magari fa fatica Perché quest'anno Si prediligono attaccanti Magari un pochino più grossi Con il 5 di skill Piuttosto che Il 5 di debole Ai Roberto Carlos Moments non scambiabile Usalo da TS Assolutamente Mentre Roberto Capretta Chiede Ai Sergio Totti Rio e Smalling Non riesco a usarli Tutti e tre chiuso Se dovessi scegliere Utilizzerei Sergio Totti e Rio Probabilmente anche per l'intesa Vai bene così Ciccio chiede Miglior CC Mezzala da affiancare a Renato Foot Burday e Petit Prime Atal è meglio di Mbappé Atal è sicuramente Meglio di Mbappé base Mentre se serve Miglior CC Mezzala da affiancare a Renato E Petit Andrei onestamente Su una scelta Del tipo Un bel Brunello Se riesci il Totti Sarebbe epico Però già il 91 L'headliner Va bene Giuseppe Ranieri Dicino il 5-3-2 Insieme a James E Joe Gomez Meglio Ferdinando Ovvierà Vai di Ferdinando Preferisco un difensore di ruolo Simone Scali Uso Sven Bender E Vitale al centrocampo E ti trovi bene Consiglio Renato al posto Di uno dei due Io ti direi Al posto di Bender Che mi arretri a difesa Per questione di intesa Giocheresti con Kuluseski A 10 e Neymar A 8 O Perisic e Neymar A 10 entrambi Vai di Kulu Che è molto più forte Di Perisic Niccolò Matteini Ho questa squadra Leno Quadrato Gunter E Gosens Roberto Carlos Vidale per ora Renato Esterni e Minisium Con Bappé E Punta Neymar E Cantona Che riserve per il link Qualcosa da cambiare Avrei anche Palacio e Dybala Allora Palacio e Dybala Li utilizzerei da sub In questa squadretta qua In difesa punterei a mettere Un Tomori al posto di Gosens Centrocampo mi piace Minisium si è fatto un po' antico Quindi potresti puntare A prendere magari Al posto di Minisium Un Kuluseski Da esterno Che secondo me Ti worka meglio Se riesci Per quanto riguarda Invece Lil Peep Abbiamo meglio la difesa Con Yashinbevi Mendivaran Mangalatal Che riserve per l'incario di Atta Oppure Art Mendivaran E Reguion Walker O anche 300k Se riesci a consigliarmi Qualche cambiamento Te ne sarei grato Allora Per quanto riguarda La prima Secondo me È la soluzione È la soluzione migliore Perché Yashinbevi è un ottimo portiere Mendivaran è un ottimo terzino Varane è un ottimo difensore Mangalatal ci posso stare Atal mi piace tanto E ti linka pure di Atta Art è più scarso di Yashin Mendivaran sono uguali Walker TD è quello base Niente di eclatante E magari Reguion è meglio di Mangalatal Però Puoi sostituire Mangalatal Magari con un Ermoso Con quei 300k E quindi Secondo me Vai con la prima scelta Oblak Con l'Unin vai di Oblak Vidal ok si vai di Vidal Meglio Neymar C.O.C. E Felix C.O.S. O il contrario Vai di Neymar C.O.S. Perché c'ha una falcata Un po' più ampia Rispetto a Felix E il Sharawi ATT Come lo vedo con Palasio Mi sembra un ottimo giocatore Visto che c'ha la quinta skill Zidane Prime E Kimi C.Toti È un ottimo centrocampio Ovviamente in un 4-4-2 Tommaso In attacco a Yatal Butra Neymar E uno tra I Nagi e Felix Tra I Nagi e Joao Metti Se ti serve un esterno I Nagi Se serve un ruolo centrale Felix Che modulo uso In che ruolo li metto Ok metti un 4-4-2 A questo punto Tommaso Con Atal e Butra Punta E Neymar E Inaki da esterno Elia chiede Con 500k Un icona al centrocampo Insieme a Renato Potresti provare un Zedorf Davide Camerino Stai usando Papu88 Insigno 88 esterni E Messi base E Berratti Frisa avanti Ti ci trovi bene Mi è arrivato il momento Di rivoluzionare Con un Bappé E costruirci intorno Ma guarda Piuttosto che rivoluzionare Potresti prendere Semplicemente Al posto di Messi E Berratti Mbappé e Neymar E secondo me Ti troveresti molto meglio Ciao Nicola Per quanto riguarda Raul Prime Moments Costa un milione e quattro Per me ci sta Fondamentalmente Un'ottima icon Con 4-4 E Raul è un attaccante Molto sottovalutato Come dico spesso A me piace Peppe Vazzana Ciao Ribe Hai una squadra Con Eusebio Tonali Bruno base Mbappé Rashford Di Bala Varamendi Sambia Mangala E Oblak Chi può mettere al posto Di Bruno Serve un ccdc Guarda Mettendo Un giocatore Al posto di Bruno Onestamente Non so se sei in tempo Per sbloccare Vidal E soprattutto se ti linka Altrimenti potresti andare Tranquillamente Su un Renato A me se non concesso Che riesci a linkarlo Altrimenti Vai con una versione speciale Di Bruno Che è ancora fortissimo Di Balaoro Felix Andrei di Felix Edo ci chiede Mi ordini questi difensori Dal più forte Al più scarso Allora Toti Ramos Varan Mid Maldini Momenz Cannavaro Nel caso proponimi Qualcun altro Bird Renato Va bene come mediano difensivo Allora Per quanto riguarda difensori Ti dico Varan Ramos Maldini Cannavaro E metterei Varan Ramos Come difesa Renato invece va benissimo Come cdc Ciao Gianmarco Allora 4-3-1-2 Neuer Cancelo If James Boateng Gunter Renato Carlo Salberto Prime Neymar Maradona Mbappé Pensavo magari da tal Giocare mezzala E spostare le smeluo Renato cdc Budget un milione Allora Ti dico assolutamente sì Spostami le smeluci dc E mi porti Renato A cc Quindi come mezzala Me la vai a piazzare Mi vai a prendere assolutamente Adal Adal E mi pensi anche magari Di poter sostituire Quel maradona medium Che gli voglio bene E non scambiabile Però 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 Il 3 di piede debole Rischia di diventare Un fattore Su quella carta lì Ciao Vincenzo Cambia molto Leonardo Il base Il linfo 93 Conviene comprare Leonardo Il base E non scambiabile Guarda Se hai una squadra Fatta al top Puoi prendere il 93 Se non il 94 Che ti risulta più agile E finalizza meglio col sinistro Altrimenti continua col base Magari Datti un pizzico sulla pancia E modifica altro Francesco Griego Nel club E Puskas Butra Fenomeno Baby Di bala speciale Neymar E Cristiano Chiuse punti E chi esterno Allora Nel 4-4-2 Il 4-2-2 Sono identici Quindi metti fondamentalmente Neymar E E Butra Da punta Con Cristiano E Puskas Anzi mi fai Butra E Cristiano Punta E Neymar E Puskas Esterni Ciao Andrea Mi stai iniziando a seguire da poco E mi trovi molto simpatico Grazie A centrocampo Come Chiellini Freeze Quale stile di intesa dovrei mettere Puoi spiegarmi perché Proprio quello stile di intesa Allora A tutti i centrocampisti CC e CDC Io vado ad applicare Ombra Perché dà un bel boost Sia per quanto riguarda la velocità Che la difesa Quindi preferisco Quello stile di intesa La fondamentalmente Quello che utilizziamo tutti Su quel tipo di giocatori lì Poi direi di rispondere Alle ultime Alle ultime 5 Che vedo qua Ciao Francesco A centrocampo In un 4-1-2 Con Adal e Renato Che mi consigli di mettere Soprattutto di usare CDC e chi mezziali Allora Se riesci a piazzarci un Vidal Da CDC Sarebbe il top Altrimenti Magari Puoi anche prendere un Lesmelu Metti Lesmelu CDC Adal e Renato Invece come mezziali Davids Come dici meglio James Ombabu Io preferisco James Perché è più reattivo Ciao Manuel Ancora in versione pichi Uno tra Mbappé R9 mid E Cristiano Io preferisco Mbappé Per i motivi che ho detto Anche a inizio video Foggiano Meglio Royce Il migliore resto della squadra Metto Neymar Io andrei su Neymar Usato garantito Don't touch Invece fa una battuta Di seguito Quando non facevi il cosplay Di Erfaina Al Comic Con Con Iron E Olli Questo raga Per queste storie E altre Vi invito A passare live Che ci sono Tutti i giorni Aneddoti Di questo tipo Quindi Raga Fondamentalmente Anche per questo episodio Di questo Quello È tutto Vi ricordo di lasciare subito Il commento Per la risposta Avere la risposta Settimana prossima Un bel like In descrizione Tutte le info Per quelle che sono I live giornali Sulla piattaforma Viota Raga Un saluto Un abbraccione A Riberoski E alla prossima Ciao ciao